buonasera buonasera ben ritrovati dentro il nostro armadio ciao stefania ciao adriana e ben trovati anche a tutti voi allora entriamo nelle categorie autunnali di abbigliamento per consigliarvi cosa va di moda cosa è passato dalle passerelle e cosa sta bene ai nostri fisici e cosa sta bene io io ho scelto un maglioncino con l'applicazione c'è già appunto un po fresco tu ho metallizzato il metallico sì perché sono delle tendenze della street view delle passerelle e quindi adesso li vediamo poco alla volta vediamo tutte le tendenze più in voga la prima è una noi oggi parliamo delle parti sopra tra virgolette quindi maglie maglioncini camice tutto quello che sta sopra la vita diciamo e la prima categoria che abbiamo visto che è di moda è una categoria che fino a poco tempo fa era un underwear era l'intimo sì praticamente erano le cosiddette magliette che si mettevano sotto per esempio quelle un po in cashmere che ti tenevano caldo ma erano anche un po trasparenti per andarci in giro come io questa ce l'ho queste intimissimi io in effetti ce l'ho e la tengo sotto i maglioni allora ce l'ho anch'io in questo momento e la tengo sotto perché proprio perché è trasparente allora noi dobbiamo entrare nelle case dei nostri amici però ultimamente diciamo che quando si esce di casa esatto quindi possiamo rifarla farla facciamola pure vedere di nuovo quindi questo è un modello che può sembrare intimo ma non lo è questo intimissimi poi ce n'è un altro di dolce gabbana che è un po diverso leggermente diverso ovviamente nel modello però dobbiamo dire che dolce gabbana è famosa proprio anche per l'intimo che si deve vedere quindi questo è come un reggiseno con corsetto con bustino quindi di fatto la pelle nuda e poca perché praticamente è il lembo tra la vita la parte più alta della vita e le braccia però come fai ad uscire con questo deve metterci una giacca è stato un compleanno l'altro ieri hanno regalato proprio un sotto giacca così un body e tutti che sgranavano gli occhi perché dici ma cosa è un ristorante un intimo e invece no e invece no oppure c'è anche un gucci abbiamo scelto anche un gucci perché ci piace l'alta moda ovviamente a noi piace sognare eccolo qua trasparente e scollato sì e io li vedo tutti tutti bene come sotto giacca anche perché comunque adesso è la stagione in cui qualcosa si mette sotto però sopra però sotto non più niente quindi non è che prima noi li usavamo da sotto maglie da sotto camice è come intimo sì come intimo un underwear si chiamavano invece adesso l'underwear è diventato come si dice outwear ce lo mettiamo per andare in giro esatto l'ultima di questa categoria abbiamo preso un top di ami pari eccolo qua è molto mi piace molto questo sicuramente più discreto rispetto agli altri sempre un po trasparentino quindi comunque se non si vede il top se non si vede sotto si vede reggiseno assolutamente sì però ecco diciamo che non è più tabù far vedere il reggiseno sotto chiaramente è autunno ripeto ci vuole un golfino una giacchetta sopra la rivoluzione è proprio quella cioè che tu vedi l'intimo ci metti sopra qualcosa non lo usi da sotto esatto il sotto che diventa sopra sì possiamo dire così va bene un'altra moda che torna che era di moda quando io ero ragazza mi ricordo c'è proprio antica è quella del twin set che non è il marchio è no non è il marchio poi la fa anche il marchio ma è il top con maglietta la t-shirt con maglietta uguale o vabbinata esatto pandan in palette e proprio nello stile nel colore devo dire che per esempio questo di dior è abbastanza iconico anche un po bon ton se vogliamo tra si quadretti e le righine uno con bottone più visibile l'altro meno insomma quello che rappresenta il nostro stile però la novità è proprio che sono tornati sono tornati e la caratteristica che hanno che sono sempre non sono over non sono lunghi sono abbastanza modellati sul corpo è questo come modello è che se tu poi prendi un tono su tono c'è un tinta unita sì puoi anche usare un pezzo alla volta certo li puoi separare li separi sono separabili ti togli la pregrizia di scegliere cosa ci metto sotto sopra sì il completo è molto bello però in effetti vediamo anche il prossimo di tommy al feeling ecco questo qua è chiaramente noi potremmo togliere sotto e mettere una maglietta bianca questo è molto carino e si vede anche l'abbinamento con la gondellina all'ultimo grido sì e devo dire che è il non plus ultra anche se il gesto guardi il tono della modella diciamo che il beggiolino non è il suo forte probabilmente stai che stavo pensando la stessa cosa come incarnato come armocromia non è non è quello dobbiamo guardare solo i twin set in questo caso il twin set è carino ripeto e mi conferma quello che avevo detto prima cioè sono proporzioni molto e sono molto sagomate ecco è molto seguono molto l'andamento del corpo l'ultimo twin set che vi facciamo vedere di francesca mercuri che questo qua ecco questo secondo me è più per una signora di una certa età posso proprio dirlo perché le ragazze più giovani usano i modelli come quello di dior che abbiamo visto prima quindi più corti un po più bombati invece questi qua over mi ricordano un po i vazzanicchi sai che è vero è che che erano quelli che si usavano prima allora se volevi essere in ordine la canottiera sotto la mettevi solo se era in pandan col pezzo sopra è vero è vero è vero era un po di un'altra generazione adesso le giovani metterebbero quello forse con la canotta dentro al pantalone cioè lasci fuori solo la maglia sì oppure sì oppure una maglietta così molto più corta cioè va bene il golfino sopra lungo che si appoggia sul fianco però ma io la la canotta sotto la la vedo molto più 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 stretta no più stretta o più abita con la pancia un po scoperta però un buon metodo perché il pezzo sopra copre anche nei punti che di sì abbiamo necessità maschera un po che diciamo così va bene terzo terzo genere di maglie e lui è sempre lui sempre lui il leopardano l'animalie l'animalie eccolo qua questa è una maglia di gaudi e devo dire che questa è del tutto secondo me elegante di classe questa è veramente bella sì non ha niente di aggressivo di eccessivamente sexy non è volgare non è volgare perché poi la preoccupazione di chi sceglie l'animalie è sempre quella ecco devo dire che di tutti gli animalie il leopardato rimane sempre il più l'animale più gettonato è il leopardo e comunque questo non è tutto leopardato vedete che sotto ha un motivo diverso quindi c'è un otticamente accorcia questa maglia quindi perché è perché la parte sotto è come se non dico avessi la pancia fuori ma è mi crea una sorta di punto vita a sì questo sì è vero non è sì non è non è over esatto esatto in qualche modo sagoma un po più di il corpo va bene andiamo avanti un altro un altro leopardato questo qua è old england sì che sembrerebbe un twin set invece una camicia soltanto da una parte infilata e dall'altra no con poi vi faremo una puntata tutta sui pantaloni i pantaloni di moda con il grande risvolto sì e l'idea anche della camicia leopardata che non è da sottovalutare sopra potete mettere ovviamente un maglioncino o beige o marrone o bianco o nero cioè richiamare tutti i colori sì perché leopardato alla alla fortuna che può essere accoppiato con con quattro colori e quindi è molto bella la camicia come come inserita vedete questo è un modo che mi ricordo che l'avevamo anche suggerito noi no di infilarla da una parte e dall'altra lasciarla cadente sì perché comunque da una parte lascia libero dall'altra ti segna un po il punto vita non ingombra troppo ecco mi raccomando non mettete due leopardi insieme diversi brava certo no no cioè tipo pantaloni leopardati e mai diversi o li comprate insieme o fate proprio il completo che è una roba un po che dà nell'occhio ma è quella roba lì un po troppo un po too much esatto o se no accoppiate sempre io consiglio sempre il pezzo di sopra leopardato a me piace di più leopardato sopra hai i pantaloni discreti poi sotto sai sulla coscia rischi di avere un leopardone sì perché si ingrandisce la macchia la zampaccia va bene c'è un altro leopardo sì ce ne sono ancora due o uno ne abbiamo a bisdeffe proprio questo è il mio preferito però questo è bellissimo l'ho visto da te un top così che è una specie di bustier però tu non l'avevi leopardato no questo è un trappeggiato leopardato che sta bene o come sotto giacca o con i jeans e come sdrammatizza nella foto con gli occhiali da sole sia nell'altra con sotto una maglia manica lunga e messo come messo sopra sì infatti è molto molto elegante questo è molto elegante è di mango questo e questo è di mango molto bello e come dicevamo la maglia sotto è nera quindi chiaramente si adatta molto lo vedrei molto meglio col nero piuttosto che col beige sotto sì anche io anche se devo dire che l'effetto nude poi ci sta però devo dire che in questo caso anch'io lo vedo meglio con questo colore col nero va bene andiamo nel reparto camice capitolo camice allora camice c'è un po di tutto forse la camicia più gettonata è quella tipo maschile che la solita camicia è una camicione un po più larga però perché non ha proprio il punto vita segnato questa nera che hai scelto di sì sì esatto questa maschile proprio anche qui mettendolo il consiglio che vediamo quando scegliete un modello così molto classico molto dritto di metterne una parte all'interno del pantone esatto che è quello che aveva fatto anche con con quella leopardata va bene poi ne abbiamo un'altra maschile che è una camicia di tots ecco questa è rimborsata dentro anche questa un po grandina però mi piace soffermarmi sul collo che è intanto importante bello rigido fatto molto a punta in questo caso e poi doppio perché c'è il doppio collo poi lo vedremo anche nei pantaloni c'è il doppio la doppia vita sì c'è un po di doppio in giro è vero hai ragione sì quindi l'idea è come se ci fossero due camicie una sopra l'altra è molto bella sì è un dettaglio diciamo che rende la camicia più ricercata più originale questo è l'azzurro io lo chiamavo l'azzurro tranviere sì è vero è proprio quello è l'azzurro maschile prova di moda una camicia di questo azzurro io ce l'ho la mia è molto sciancrata però molto stretta mi ce ne vuole una un po più larga quindi ne prenderemo un'altra va bene oppure camicia non maschile etro suggerisce una camicia molto scollata ecco qui poi è tenuta addirittura sbottonata sì ancora di più fa il suo effetto qui per chi vuole rendere più femminile una camicia che comunque anche maschile anche questa perché il rosa si usa tantissimo anche con gli uomini certo la lasci bella larga rettangolare potrebbe essere e invece ha scelto di metterla all'interno della gonna che comunque segna così il punto vita poi addirittura la sbottonata e quindi diciamo che l'effetto è completamente diverso qui secondo me è proprio più morbida tutta la camicia sì infatti questa non è così maschile come le altre più setosa sì questa è una camicia diversa diciamo che le prime erano proprio categorie camicie maschili questa ritorna la femminilità con questo suggerimento che ci fa etro poi abbiamo anche una bottega veneta che ci fa un altro suggerimento di camicia e questa qua è più classica sì eccola qua ecco questo è il colletto si ritorna a punta non è un colletto cortondo ma un colletto a punta la grande punta del colletto secondo me è uno dei tratti distintivi e poi il fatto che sia comunque morbido che poi alla fine col movimento dall'effetto drappeggiato che è una delle cose con quel genere di fantasia assolutamente sì e comunque devo dire che la caratteristica comune di tutte queste camicie che non sono troppo strette no non sono aderenti e dimentichiamoci dimentichiamoci il troppo aderente sono camicie tutte un pochino morbide l'ultima che è la mia preferita questa di dolce gabbana è fantastica perché ha strati sì ecco infatti questa proprio se dovessi dare un nome la chiamerei adriana ah sì sì come la mary jane adriana allora perché bianca ha l'effetto un po gilet un po questa parte di sopra sembra che sia applicata ma in realtà è sempre la stessa camicia allora questa può essere un'alternativa nel senso che vanno molto di moda i gilet le parti applicate se non riuscite però mettere potete pensare di attaccarlo direttamente alla camicia certo questa è un'altra possibilità una specie di questo è un corsetto un corpetto e applicato sulla camicia che fa sì che la camicia sia strati in realtà se non avete non volete spendere tutti i soldi che chiede dolce gabbana perché non è proprio economico una bella camicia bianca e sopra un gillerino nero e l'effetto è più o meno quello e l'effetto è quello noi se noi vogliamo anche semplificare la vita eh sì cioè ci piacerebbe fare shopping in tutti questi brand poi ogni tanto ci si adatta esatto esatto bisogna un po semplificarsi va bene allora il metallico come il mio maglioncino lo vediamo dopo la pubblicità insieme a tante altre cose belle a tra poco ben ritrovati allora andiamo avanti nel mostrare le tendenze di questo autunno 2024 sulle maglie le camicie dicevamo il metallico per il metallico si parte sempre dall'argento come patrizia pepe perché il silver è di quelli più ovviamente emblematici conici soprattutto con il lupetto e questa idea dell'aderenza sì che è vincente ovviamente essendo aderente ma di questo tessuto leggermente morbido a questo punto pare quasi drappeggiato e devo dire la verità che questo di patrizia pepe è davvero uno dei modelli più iconici della stagione non è l'unico non è il solo ne abbiamo altri che possono essere o bianchi o color oro ovviamente il consiglio è quello di abbinarlo alla scarpa o alla borsa o comunque un accessorio esatto e comunque hai ragione tu il primo quando si parla di metallico anche se io ieri da zara ho visto un metallico oro bellissimo infatti l'oro sta dando del grande filo da torcere si devo dire di sì il secondo che abbiamo scelto è bianco è un metallizzato bianco di giuseppe morabito eccolo qua questo è bellissimo questo è bello è un po più aderente paradossalmente dell'altro secondo me è quasi più difficile da portare perché il collo alto comunque aiuta e anche il fatto che sia comunque un po più un po più lunga l'altra quindi risulta quasi un po più morbida però è bellissima però devo dire che anche più difficile da portare l'argento è cioè questa io in ufficio me la metto come ho messo questo qua l'altra no che ho addosso l'altra e sembra proprio che sia avvolta nel domo pack cioè insomma più quella che ho io è sempre argento ma è un argento mettibile sì quella è più discreta ha dei fili dei fili metallici che secondo me è anche un buon consiglio da dare se volete approcciarvi al metallico ma quello lucido vi sembra troppo e infatti questa di morabito anche è un'ottima idea è un'ottima idea perché se volete se avete ancora cioè se questo è fin troppo per voi c'è l'idea di mango che è un metallico colorato che eccolo qua questo è un metallico vedi è dei fili come dici tu secondo me questa è proprio la soluzione migliore per chi vuole essere di moda ma magari non vuole usare troppo con il metallico plasticoso lucido quasi in lurex che proprio da troppo l'effetto della plastica sì è molto bello ma è anche molto bisogna usare per metterlo invece questo secondo me è già una cosa più salomonica questo lo può mettere chiunque no c'è anche tutte le età anche una persona non una donna non giovanissima una un azzurro un rosa così con dei fili l'importante che ci sia qualcosa di metallico sì condivido e però appunto c'è chi osa di più e c'è chi osa di meno però noi diamo tutte le indicazioni però il metallico è di moda quindi qualcosa è un must have proprio brava dovete averlo qualcosa di metallico mi sa che il maglioncino d'oro lo vado a prendere già sento chi dice a per capodanno lo metterò metallico però per capodanno l'abbiamo sempre messo no adesso adesso bisogna bisogna andare anche oltre capodanno va bene allora adesso lo stile boh io ho fatto tutto uno studio sullo stile boh perché non è così semplice siamo già con la prima camicia sì che è mossa questa è mossa boh vuol dire con le trasparenze con le leggerezze con le frange questo vuol dire boh no perché se tu arriva un extraterrestre domani e ti dice stefania cosa vuol dire stile boh come glielo spieghi è mosso con tutte le trasparenze un po un po selvaggio a tratti non troppo pettinato però a tratti anche un po' chic un po' chic un po' frufru ma soprattutto tessuti molto molto leggeri e a strati questo è il concetto di boho che è uno stile che di solito utilizziamo d'estate perché proprio perché è leggero ci piace d'estate ma in realtà viene visitato anche per l'autunno sì questo autunno è proprio l'anno del boh chic o del boh anche normale per esempio questo è doder stories è una maglietta che si trova comunemente se andiamo in giro nei nostri store ecco questo esatto questa è alla portata di tutti insomma non è un prezzo altissimo secondo me di chi ha il fisico a triangolo troppo grosso di spalla di braccia cioè chi è troppo grosso sopra non va bene troppe balze sopra beh sì perché ti ingrandisce ancora allora io le frange il boh lo metterai nella parte sotto magari quando vedremo la prossima puntata invece qui devono essere leggere se sei troppo grossa sopra quindi se sei troppo spalluta no se hai quelle donne che hanno le spalle molto grosse le braccia grosse molto seno bisogna stare attenti bisogna stare almeno con un modello come questo perché la silista tipica del boh è chloe no sta stagione ha fatto delle sfilate pazzesche sì e effettivamente alcuni per esempio questo modello scende sulle scende molto sulle spalle quindi anche una pellegrini non sta male anzi qui valorizza è meno invadente dell'altro sì è meno invadente dell'altro quindi questo è molto bello e chiaramente ecco è un come posso dire è un masteva autunnale non è invernale perché questo lascia anche molti spazi della pelle scoperti poi è tutto a balsette quindi si alza passa tutto il venticello che noi freddolosi non possiamo usarlo a lungo esatto però rispetto alla prima che abbiamo visto ripeto è molto più leggera sulle spalle molto più facile da mettere un altro tipo sempre eccola qua vediamola ancora un momento è questa qua sempre di chloe che il tessuto si accompagna al camoscio comunque allo stile è scamosciato vedo che è abbinato intanto in questi colori cioè raramente il buo è proprio fucsia sono colori naturali sono colori naturali e anche i tessuti sono tessuti naturali sì e come dici tu è vero associata spesso al camoscio a ruggine a questi colori al mio smalto hai visto il mio smalto color caramello molto bello che questo anche un po fame a quest'ora di caramello andrebbe bene con quella camicia questa questa manicure qua l'altro boh che abbiamo fatto che abbiamo preso che sempre di chloe eccolo qua bello anche questo si per dire non è che col jeans non si possano mettere queste maglie anzi stanno bene magari scegliamo un jeans come questo che ha i quadrotti che comunque è un po indiano quasi non si è vero sembra una scuò uno scuò con le frange con i materiali camoscio così sta di mo così si abbina sì sì è molto bello molto bello l'ultimo boh che abbiamo preso è drappeggiato è certo perché il boh drappeggiato e non plus ultra e quindi queste maglie che sicuramente sono molto più semplici rispetto alle altre baldanzose sì e sono sempre di od other stories che ha scelto proprio questi tra gli stili preponderanti dell'autunno inverno esatto va bene allora adesso guardiamo un po che tipo di maglie usano non parliamo ancora di maglioni perché non insomma è autunno ma non è inverno poi li vedremo le vedremo più avanti però qualche maglioncino che suggeriamo da mettere in questa stagione da cosa partiamo partiamo da uno un po peloso no sì in quelle quel pelo che però non ti tiene abbastanza caldo magari per un inverno perché sotto un maglione del genere tu dovresti mettere un'altra maglia invece così comunque inizi e poi anche andarci in giro senza sopra nient'altro perché ti tiene a sufficienza caldo esatto abbinato perché no un pantalone morbido quindi due morbidi insieme non è però due tessuti diversi che sotto c'è la pelle o l'ecopelle esatto bisogna stare attenti poi come si abbina però anche questa forma col collo alto ma non altissimo sia un mezzo lupetto diciamo mezzo lupetto corto ma non cortissimo e largo ma non larghissimo esatto sia non è più l'over dell'anno scorso diciamo così un morbido ma non è un over va bene poi abbiamo una maglia della marca di twin set consigliata anche questa è la scelta proprio morbidina morbidina un po pelosina sempre per la stessa logica però a mezze maniche perché poi a mezze maniche quando arrivi a dicembre in un tratto gennaio non le metti più certo tantissimo a meno che non le devi mettere adesso e questa è la stagione giusta perché chi ce li ha le tiri fuori perché poi rischi che non la metti né prima né dopo è vero anche quelle senza maniche io ho un paio di maglioncini senza maniche le devo mettere adesso perché dopo è freddo corri corri a casa sì 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 ce l'avevo stamattina e quindi è vero come oppure l'ultimo a questa qua di vittoria beckham è fantastico sì è praticamente è come se fosse messa una lupetto a vita alta sotto con sopra un altro tutto messo al contrario praticamente sembra che abbia che lei passi da dietro sì ma secondo me passa da dietro sì però con l'etichetta non al dietro nel senso che dove c'è l'etichetta è solo la parte in alto non c'è il tessuto dentro questa la devi prendere così però non so se concordi cioè non la trovi un'altra marca no noi possiamo farvi tutti esempi e ispirarvi in qualsiasi modo però questa o prendi proprio una che l'ha copiata o è difficile sì sì se vuoi quella devi andare da vittoria beckham e prendere quella lì va bene andiamo avanti l'altro stile che non se n'è andato che da già da un paio di stagioni che stiamo utilizzando è il croleggiale collegiale bontone preppi vediamo qua della studentessa sì della studentessa bontone per esempio questa che ha la camicia larga sia righe sì maschile sì però con sopra il gillerino che lo rende un pochino più femminile con anche la manichina a sbuffetto la manichina a sbuffetto poi questo gillerino corto con la camicia che scende a me piace molto anche a me poi pensare che è shane cioè si può trovare questo sì come scienzi ci sono tanti altri fast fashion che potete utilizzare comunque questa è una copiata che possiamo fare anche noi no con una camicia qualsiasi e poi un gillerino un gillerino corto oppure abbiamo un altro modello di preppi questo caso al vintage eccolo qua allora questo è uno dei miei preferiti perché sotto a quella camicetta bianca però attenzione questa non è maschile perché come vedi la camicia non spunta da solo per me non è una camicia tu dici che è un collo se può anche essere che sia un collo io io ieri avevo un vestito nero sotto aveva un collo e sotto il vestito aveva una sottogonna bianca col pizzo che usciva sembrava che avessi sotto una camicia in realtà erano era tutto finto così non dovevi neanche portarla a lavare la valla bellissimo cioè mi piaceva un sacco perché era tutto costruito cioè a volte quello che sembra non è non è quindi dobbiamo stare attenti però l'idea comunque che lo stile sia anche tutt'uno quindi noi adesso ci stiamo concentrando sulla maglia e maglioncini però anche la molletta la cintura certo certo esatto ai dettagli prada cosa dice del del preppy del bon ton vediamo assolutamente di sì e lo fa questo è il famoso giubbetto eh sì questo giubbetto è da avere dai ce l'hai questo è quello del no questo no questo io non ho più l'età dai no perché questo è proprio da università mi sembra è proprio da università è vero sono quelli del college che poi quando andavo all'università io non usavano no perché college americano nessuno di noi alla stradale di milano queste robe non non usano no certo va bene ok e questo era il preppy va bene stile nuovo che uno direbbe ma no è da primavera invece è d'autunno è quello del marinaio del sailor si va al mare in tutte le stagioni ormai esatto il marinaio da emily in pace è bella questa che hai preso questa serie iconica vedi che lei ha la maglia col fiocchetto da marinaio con sopra un giubbino da marinaio e questo è un autunno francese che secondo me che tanto adesso però lei si è trasferita a roma eh sì quindi nell'ultima puntata lei si trasferita faccio spoiler io l'ho già visto però quindi chi non l'ha visto mi dispiace comunque si trasferisce a roma lo dico però tanto c'è un'altra stagione quindi non si sa cosa succederà hm cosa propone come stile marinaio vediamo eccolo qua le righe e beh sì come come direbbe avanguardia pura però effettivamente è così che si rappresenta al meglio se volete incarnare la tendenza del marinaio dovete passare per un maglioncino bianco a righe nero blu e siete a posto invece Max & Co suggerisce anche questo una cosa molto tipica del marinaio che è il giaccone e beh però con il giaccone il maglia fiocco e tutto è un perfetto stile marina letto esatto sì che ripeto potrebbe sembrare un mood prima primavera estate in realtà è autunnale perché mi viene in mente il mare un po' d'inverno sai il mare in burrasca mi viene in mente quel mare lì non il mare dove ti tuffi ecco no vabbè ormai siamo nel mare in burrasca esatto ormai siamo nel mare in burrasca altra categoria i quadri oh il tartana quadri che è proprio quello più iconico vabbè qui abbiamo ripreso un berberi che è ovviamente questo berberi è la classica camicia il berberi se uno vuole un tartane dare via spendere un po' di soldi però a parte gli affezionati sempre alle case produttrici che sono iconiche però poi ci sono i momenti che vanno e non vanno per tutti quelli che magari non amano sempre i quadri questo è l'anno in cui è vero quindi se avete una camicia barberi o barbor da qualche parte in un armadio dicendo ma no non usa quest'anno usa di più e anche la forma perché a volte anche la stessa la stessa marca faceva le cose più sciancrate invece se trovate proprio un vintage secondo me non è male perché è il genere che dicevamo prima quella un po' maschile quella dritta non troppo stretta non troppo sciancrata mettiamo da una parte dentro il jeans dall'altra no ed è perfetta con sopra un gilet magari o bianco o blu e va benissimo fred perri diamo avanti altro tartan questo è un altro colore nero e blu qui mi raccomando quando abbiamo queste polo dobbiamo chiuderle a differenza di prima sì quindi le dobbiamo chiudere tutti i bottoncini chiudere al collo esatto bisogna stare attenti qui a non prendere una taglia troppo stretta o se non ci stiamo più se non ci stiamo più dentro dobbiamo cambiare maglia dobbiamo comprarne una nuova perché il problema è che adesso si chiudono fino all'ultimo bottone quindi se il collo è diventato taurino perché stiamo esplodendo e poi seguite sempre il mio consiglio piuttosto prendete una taglia in più ma così sembrate anche più magre questo è vecchio consiglio diamo veloci che siamo per chiudere tartan l'ultimo it'sue quello questo lo qua eccolo anche con questo materiale pesante pile e questo mi piace messo anche sopra quindi sotto una maglia magari drappeggiata di questi colori i colori dobbiamo dire che siamo fortunati perché se sotto ci mettiamo un bianco un blu un verde scusami questi colori si richiamano tutti sì sì è un sacco di colori che possiamo mettere quindi possiamo giocarcela anche un po come vogliamo esatto che poi sono i colori classici del tartan ultimo sartoriale se vogliamo essere eleganti ecco vediamo una giacchetta di alberta ferretti vabbè anche questa è corta ma non è strettissima non c'è più strettissimo anche questa perché è corta come dicevi tu però la spallotta è già importante sì e poi non è ripeto non è che ti strizza addosso ma non è neanche over no infatti e va di moda con i capelli un po indietro non troppo diciamo infiocchettati Roberto Cavalli ci propone un altro è questa bella sì perché il fiore applicato resiste quindi resiste a me piace molto come tu che hai le perle applicate qualcosa resiste e poi c'è un ultimo sartoriale che è quello di Stella McCarnie esatto qua abbiamo preso tre cose diverse no da una giacchetta a una giacca col fiore a una camicia questo è per dire lo stile elegante sartoriale che va sempre bene sì infatti qualcosa di elegante anche se non avete appuntamenti lavoro cose che meriterebbe di essere sfoggiato si prende anche per andare a farsi un giro con le amiche assolutamente bisogna sempre cercare di essere in ordine sempre elegante per noi non per gli altri per noi non per gli altri perché il vero protagonista della propria vita siamo noi esatto è bella che belle queste perle di saggezza dobbiamo scriverle va bene grazie Stefania grazie Adriana un saluto a tutti grazie Cristiana Semerario in regia ci vediamo alla prossima settimana ciao